Sarà l'azienda proprietaria dell'autocisterna coinvolta nell'incidente a farsi carico di tutti i risarcimento della terribile serie di esplosioni che ha coinvolto Borgo Panigale nella giornata di lunedì, causando un morto, 145 feriti e almeno 10 milioni di danni. Questa è la prima stima in euro sui costi di ricostruzione effettuata dal comune, anche se le cifre sembrano destinate ad aumentare. A Palazzo d'Accursio hanno già preso contatto con la compagnia assicurativa della loro fratelli SPA, l'azienda coinvolta nell'incidente, per mettere in piedi quella che potrebbe essere la più grande constatazione amichevole della storia. Secondi piani ogni cittadino dovrebbe documentare i danni subiti e prendere contatto con il comune che provvederà a farsi da tramite con l'assicurazione. In ballo ci sono i circa 5 milioni di risarcimento alle due concessionarie, assieme alle tante abitazioni che sono state investite dall'onda d'urto, per non parlare degli edifici pubblici, tra questi anche due scuole e di tutti gli altri danni collaterali. Altro problema da affrontare riguarda quello della viabilità, in tal senso Autostrade ha assicurato che non ci sono stati danni alle arterie principali e quindi non ci dovrebbero essere particolari disagi per la circolazione, oltre a quelli causati normalmente in questo periodo dall'esodo estivo. Nel frattempo hanno fatto la loro comparsa le prime barriere anticuriosi, montate sul cavalcavia che dà sulla tangenziale per evitare che gli automobilisti rallentino per guardare il cantiere. A tornare sui fatti di lunedì è infine il Vescovo di Bologna, Monsignor Zuppi, che ha scritto alla Questura per ringraziare le forze dell'ordine che si sono adoperate nei soccorsi. Si è vista all'opera una grande capacità degli uomini, ma non solo, aggiunge Zuppi, assieme a loro ha agito anche la provvidenza divina.